Continuano intense le attività della palestra di Liberi con le numerose attività quotidiane. Si è appena concluso un avvingente torneo di pallavolo che ha coinvolto vari comuni della comunità montana di Montemaggiore presso la palestra comunale. Tante altre attività itineranti sono in programma nelle prossime settimane, come ci ha spiegato Marianna Di Dario che dirige la struttura. Allora Marianna dopo queste iniziative che ci sono state a Liberi stasera finisce il torneo di pallavolo, che altre iniziative bollono in pentola? Altre iniziative, il mese prossimo inizia con il torneo di pallavolo e quindi dopo questo altre... Altre iniziative in altri comuni ovviamente. Sì, sì. Quali sono gli sport che vengono praticati in questa palestra? Allora lo sport praticato viene con pesistica, bodybeating, poi corpo libero, crossfit, che è un misto di... Ecco, se uno volesse venire nella sua palestra per dimagrire è possibile? Sì.